Il video di un'altra parte 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 di Che le dà il diritto di essere pratico? LE! 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 Dici a me? Mico, iva seguito Non era solo La non-violenza è un'attitudine di strada urbana che attraversa le metropoli di tutto il pianeta Da fino ad incunearsi all'interno dell'ano di una vacca Dici a me? Il lavoro può uscire, ha detto molto bene questo video Montali! Montali! Montali adesso! Montali! Montale! Dici a me? Dici a me? Sono sospettoso Ma questa è una vagina! Mamma, sto arrivando! Mi dicevano che era stretta Oh! Finché la barca va Lasciala andare Finché la barca va Non la fermare Quando l'amore vedi Un popup super Ma, 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 ma! Non c'è Tem WILLIAM Ciao, io vado al lavoro. Anche lui veniva seguito. Dovevo dirlo adesso. Devi farlo andare di più. Dai, dai, vieni qua. Devi farlo andare di più. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Oh, oh, vai, vai. Andiamo a casa a montare. 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 E tu cosa dici? Andiamo a casa a montare. L'HTMI! Oh, qua, ti ho! Sono sospettoso. Dice a me? Per me, grazie. Grazie a tutti